E bella a tutti ragazzi, bentornati in una nuova puntata della mia serie qui su Pantheon Epsilon, bentornati dove avevamo lo spawn in quel buco, sottoterra, perché vi ricordate cos'è successo la scorsa puntata? Eh sì, eravamo tornati con grande fatica e con la lana in superficie, ma poi un creeper ci ha fatto esplodere, quindi siamo di nuovo qui e dobbiamo tornare di nuovo su. Ma tranquilli, non vi faccio vedere tutto il viaggio perché sarebbe veramente noioso, l'avete già visto nello scorso episodio, oltretutto occhio perché c'è rimasta una sola lana lime, se perdiamo anche questa, gioco finito, disinstalliamo la mappa e ciao. Comunque adesso cerchiamo qua di sopravvivere alla solita massa di ragni e streghe e ci vediamo in cima. E rieccoci finalmente in cima, giusto giusto ho trovato un cartello, così lasciamo qua un piccolo messaggio ai creatori della mappa. Che ne dite? Secondo me ci sta moltissimo. Comunque per fortuna è giorno, quindi mob non ce ne sono e se mi ricordo bene l'altra volta stavamo scavando qualche anguria per cercare di recuperare un pochettino di cibo, giustamente. Facciamo lo stesso anche questa volta e magari ci prendiamo anche un po' di terra che fa sempre comodo. Dato che abbiamo tempo e mob per adesso non se ne vedono direi di recuperare anche un po' di legno che qua abbiamo gli alberi che sono fondamentali e rifarci un pochettino di inventario perché non mi ricordo se la base abbiamo rimasto qualcosa oppure se abbiamo perso tutto. Tanto più che qua abbiamo anche la pietra così ci possiamo fare degli utensili un bel po' migliori rispetto a quelli in legno che non è mai male. Ok anche questa è fatta quindi direi di andare alla base e andare al prossimo dungeon ma attenzione cosa c'è qua? Spada d'oro ma soprattutto due mele d'oro? Ma non l'avevamo mai guardata questa chest mi sembra strano mi sembra molto molto strano. Eh siamo dall'altra parte dell'isola quindi in effetti ce l'eravamo persa questa buono buono dai bene così. Oh chiudiamo qua la strada non voglio mai più rivederti maledetto dungeon schifoso. Ok siamo qua nella nostra base vediamo cosa avevamo da parte devo dire tanto cibo tanto cibo bene allora non ci servono tutte queste angurie se non di scorta. Tante mele d'oro ce ne portiamo una per sicurezza ce n'è anche una incantata bene 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 c'è il carbone ottimo 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 la patata l'altra lana bene così di qua. Quanto cibo quanto cibo porta via porta via avevamo anche della cobblestone le torce sì mi piacciono bene 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 direi che siamo messi benaccio dai quindi da qua eravamo venuti questo è il dungeon che abbiamo appena fatto direi che probabilmente questa è la strada che ci aspetta e attenzione questa scalinata che sale non preannuncia niente di buono direi eh. Allora spacchiamo qua il vetro e già c'è un ponte sospeso e scheletri zombie che ci danno il benvenuto ottimo eccolo qua lo scheletro con l'armatura bene niente immagino che dovremmo salire qua sopra penso almeno cerchiamo di fare con calma finché possiamo. Eh creeper creeper passiamogli sopra la testa e tappiamo tutti i buchi magari che non è una cattiva idea. Va bene ok ok no. Allora direi che per salvarci sarà meglio andare lì laterale ma ci sono gli scheletri ci targhetta non sicuro e se cadiamo chiaramente siamo spacciati no c'è dell'acqua là sotto c'è dell'acqua e vedo qualcosa che potrebbe essere interessante. Dite che proviamo a tuffarci? Io dico di sì eh. Io dico di sì. Chi non risica? Non rosica? Occhio! Oh no ragazzi cominciamo male qui in acqua perché c'è uno spawner di ghast lì eh. Dobbiamo assolutamente distruggerlo prima che nasca qualcosa perché sennò siamo veramente fottuti. Forza 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 ok. Questa è fatta. Ah non dovete pensare chiaramente che io sia matto perché ho resettato lo spawner prima di venire qua nel dungeon. Anche se voi probabilmente non l'avete visto perché ci è voluto un quarto d'ora buono. Comunque lì sotto vedo una chest quindi abbiamo fatto bene a scendere. Occhio anche agli enderman. Andiamo a vedere cosa ci regala qua il gioco. Pane. Una pala. Pozioni della salute. Un po' di carbone. Bene bene bene. Occhio che si soffoca. Si soffoca in fretta qua sotto. E occhio sempre al fatto che non abbiamo armatura quindi cerchiamo di tenere la vita sempre al massimo. Ok noi dobbiamo andare quassù quindi quale miglior modo che scavarsi una scalinata barra tunnel nella roccia. Ok siamo sbucati qua all'interno della grotta ma ci divide il ghiaccio e sopra è pieno di mob quindi direi di trovare una zona un pochettino più tranquilla se riusciamo per uscire dal nostro nascondiglio segreto. Che fastidio ragazzi tutta quest'acqua e tutto questo ghiaccio comunque siamo sbucati. Occhio che abbiamo uno scheletro direttamente sotto. Oh cosa c'è laggiù? Sembrano pistoni. Non lo so. Sono curioso di vedere cosa fanno quei pistoni perché li abbiamo anche da questo lato. Quindi con un piccolo tunnel andiamo a vederli da vicino. Occhio il creeper. Guardate come si avvicina furtivo. No. Oh no. Oh no. Oh no. Fuga. 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 È l'unica parola che conosco. Fuga. No. È un bug. Ci siamo buggati. Via. 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 Oh mamma. Tre cuori. Scappa. Scappa. Cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Una porta. Non si apre chiaramente. Chiudiamoci. Chiudiamoci. No. Lui no. Lui no. Lui no. Lui no. Chiudi tutto. Chiudi tutto. Ok. Dovremmo essere salvi. Maledetto creeper. Maledetto. Come al solito. Che rischio. Che rischio. Allora. Qua ci sono delle scalette che sono forse interessanti. Allora vedo del vetro ma vedo anche un bello spawner. Occhio al ragno. No. Ragni velenosi. Ecco. A posto. A posto. Via. 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 No. I ragni velenosi no. Di nuovo. Guardate ma che posto strano è mai questo? Io direi proviamo a scavarci un semitunnel qua. Oh. TNT. Attenzione. Maledetti. Ci hanno messo anche la trappola. Pensate un po'. Guardate che bastardi. La colata di lava sopra la TNT avevano messo. Maledetti. Vabbè ma quanti spawner ci sono? Che è che laggiù c'è una chest ma... Occhio 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 questa è una bruttissima situazione. Bruttissima situazione. Ci siamo salvati. Mamma mia che rischio. Allora direi che l'unica è scavare dritto per dritto e cercare di arrivare in fondo. E magari trovare quella chest, vedere cosa contiene e poi fuga. Fuga per la vittoria perché penso che dovremmo andare qua a destra. Ok qua dovremmo praticamente essere nel muro quindi... Proviamo a salire e vediamo dove spuntiamo. Qua c'è uno spawner e intanto ce ne liberiamo. E vabbè ragazzi però quando questo gioco fa così che ti uccidono attraverso i muri veramente... Cos'è successo? Si è anche buggato qualcosa. Bene. Ottimo. Ottimo. Ok abbiamo rimesso le cose a posto adesso però bisogna tornare a prenderci tutta la roba e sarà difficile ritrovarla in quel tunnel di neve che avevamo scavato. Oltretutto eravamo saliti da sotto quindi adesso sarà una bella noia eh. Sarà veramente una bella noia. Facciamo un mega rush dai prima che spawni troppa gente. Ok sono tornato ho ritrovato tutta la roba per fortuna e ho avuto anche modo di dare una piccolissima occhiata qua fuori e vedere che abbiamo due spawner qua davanti che sono quelli che ci stanno generando tutti i problemi. Perché è da lì che nascono tutti i ragni chiaramente quindi quello che dobbiamo fare adesso è riuscire a raggiungerli, spaccarli dopodiché ci sono un bel po' di chest qua da lutare. Allora ecco qua gli spawner guardate quanti ragni maledetti e ci hanno colpito di nuovo. Ok 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 ci siamo via uno via uno perfetto perfetto eccolo eccolo dai via perfetto perfetto non ci sono più tantissimi ragni potremmo anche azzardare magari un'uscita. Ok adesso mai più spacca lo spawner non so perché quelli sul soffitto non mi attaccano ragazzi ma non me lo chiederò raccattiamo tutto il più in fretta possibile veloci veloci prima che decidano di venire a distruggermi. C'è tanta bella roba c'è anche il secchio di latte no ecco ecco uno è sceso uno è sceso finché è solo uno ce la possiamo fare no 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 volevo mangiare la mela volevo mangiare la mela invece ho cliccato la chest no. Ok adesso dovrebbero essercene veramente pochi dovrebbero essere desponati facciamo un mega rush adesso o mai più spero di aver recuperato tutto eccole le mele d'oro qui non c'era niente che ci interessava a posto via 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 io me ne vado io me ne vado fortuna che avevamo rotto tutti gli spawner e quindi non sta responando più niente. sapete qual è l'unico problema adesso che abbiamo capito che non era questa la strada ci hanno mandato qua su per prendere queste chest riempirci un po l'inventario ma non era questa la via per la lana ottimo e niente quindi dobbiamo tornare giù di là dove vedo creeper mini zombie ragni ottimo ottimo eh che ci volete fare occhio al mini zombie occhio mini zombie che è sempre veramente cattivissimo no da dove da sopra arriva si è incastrato stupido idiota comunque dato che ho il legno e ho trovato la leather a questo punto sapete che vi dico che faccio una cosa che mi sarà molto molto utile e cioè una bellissima armatura ok mi sento già un pochettino più protetto oh no i mob potenziati questi qui buggati che si trovano solo nelle ctm scappiamo scappiamo qui c'è del ghiaccio qui c'è della luce attenzione cos'è cos'è non cadiamo di sotto occhio perché c'è un creeper che ci insegue vediamo laggiù cosa c'è vediamo laggiù cosa c'è attenzione attenzione no brutti 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 però di sicuro qui c'è qualcosa chiudiamoci chiudiamoci non ho nessun blocco sotto mano che idiozia non ci passa stupido idiota non ci passa occhio è che se ci colpisce ci distrugge allora qua comunque di sicuro c'è qualcosa intanto c'è una chest vediamo con un libro va bene niente di interessante occhio no vabbè 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 ma cos'è cos'è col piccone in mano rompigli il blocco no i ragni velenosi di nuovo no 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 ma cos'è va bene va bene va bene ok 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 calma 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 direi proprio che siamo in trappola con lo scheletro del wither qui che ci controlla e dall'altra parte ho solamente visto lanciarsi contro di me decine di mob tra cui lui eccolo qua il creeper ci ha raggiunto e niente io direi che in questa situazione praticamente disperata io vi saluto vi ringrazio come al solito di aver visto il video sino alla fine mi invito a lasciare like commentare condividere soprattutto iscrivervi al canale per non perdervi altri episodi della mia serie di pantheon epsilon che mi sta rovinando il fegato ve lo dico moriamo talmente tante volte che ho perso il conto come al solito vi ricordo in descrizione il mio instagram man max tv e niente io vi saluto bella iscrivetevi non vi siete ancora iscritti iscrivetevi 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 iscrivetevi